Ad aprire il menu di oggi è lo scatenato Daniele Persegani, che oggi prepara un primo piatto a base di pesce. Per rifarci dei bagordi delle feste, con gusto, prepariamo la zuppa di vongole californiana. Ingredienti 3 patate rosse, 1 cipollotto fresco, 200 g bacon pezzo intero, 500 g vongole aperte peso netto senza guscio, mezzo l brodo vegetale, 200 ml panna, 300 ml latte, 1 noce di burro, paprika dolce, worcester sauce, sale e pepe, 1 pagnotta rotonda. Procedimento Tagliamo le patate rosse a dadini di circa 1 cm per lato. In un tegame, mettiamo a sciogliere il burro. Mettiamo a rosolare il bacon a cubetti. Teniamo da parte metà del bacon rosolato. Uniamo il cipollotto affettato ed un paio di cucchiai di farina. Mescoliamo per bene. Aggiungiamo la paprika dolce, la salsa worcester, il latte e la panna, il brodo e le patate a cubetti. Lasciamo bollire per mezz'ora. In un'altra padella, facciamo aprire le vongole con un filo d'olio ed un goccio di vino bianco. Conserviamo anche il fondo di cottura. Aggiungiamo le vongole con la loro acqua alla zuppa. Facciamo cuocere ancora 10-15 minuti. Serviamo con cipollotto fresco affettato, paprika, bacon croccante e dei crostini di pane tostato. Oppure, all'interno di una pagnotta svuotata e tostata in forma.